Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sulla serie della carriera di WWE 2K19. Ci hanno appena licenziato dalla WWE, vediamo adesso come procede la storia. So a whole lot of people have watched me throw my career away. Why is that a good thing? Because controversy creates cash. My phone's been blowing up. Everyone wants to book you now. You're the hottest thing on the indie scene. And based upon the principle of supply, there's only one of you. And demand, like I said, is high. Your rate is skyrocketing. Okay. Okay. This could be good. It could be very good. We could turn chicken crap into chicken salad. If you know what I'm saying. I don't think I get it. You're gonna stick it to Triple H and WWE by making your own success in the indies. You'll be way bigger than you ever would have been in NXT or WWE and we'll do it together. So what do you say? Are you in? Okay. In proprie parole mi stanno dicendo di farmi carriera nel circuito indipendente, diventare uno dei migliori e fargliela vedere al Triple H. Ok, siamo tornati in BCW. Do you want to explain to me what's going on here? Give me a minute. Welcome to the new reality of BCW. Because of all your online hype, we sold out our usual allotment of tickets a few days ago. But, since I'm an entrepreneurial genius, I pulled some strings with the school principal allowing us to move the show outside. We are doubling our capacity. All right. All right. Good work. But that's not all. See those fancy video cameras and that nice gentleman I was just speaking with? Uh, yeah? For the first time ever, BCW will be live streaming our event around the world on pay-per-view. So anyone who's not lucky enough to see Buzz in person can still watch him do his thing from the comfort of their homes for a small but fair fee. Okay. Isn't it great? Uh, yeah, it's great. Question. Who is Buzz? Oh, haha. That's your new nickname. You know, because of all the social media buzz you're generating. Don't worry. You'll get used to it. Okay. Okay. It's all turning into chicken salad, my friend. Uh, yeah. Speaking of making things not crappy, have you seen Cole? Oh, I feel like I should talk to him before our match tonight. Eh, he's around here somewhere. And oh, by the way, your match with him tonight is now false count anyway. Cioè, possiamo andare da tutte le parti. Possiamo uscire dal match senza il conteggio. Non ci dovrebbe essere la squalifica. Quindi. Eh, quindi abbiamo molte più possibilità, almeno abbiamo una cosa, delle cose in più. Allora, vediamo cosa ci dice Cold Queen. Finalmente abbiamo trovato il nostro primo avversario, vediamo cosa ci dice. Come back to apologize to me for stealing my shot at WWE and immediately throwing it away? Look, I am not apologizing for anything, okay? All I want to say is that we don't need to have each other's backs, but with what Baron is plating to do, the least we can do is have each other's respect. All right? So, are we good? Oh, yeah. We're so good? I thought I'd introduce you to my new character I'm trying out tonight. You remember how Matt Bloom didn't like Mr. CQ and decided to give you a tryout instead of me? Sure. Smart decision. I'm calling myself Black Hole Coal because I have an energy so intense nothing can escape it. What? It's a lot of fantasy. Why? I'm not a fan of masks these days. You know, I find it really interesting that I was attacked by somebody wearing a mask and next time I see you, you have a mask. Not to mention you also had all the motivation in the world to do it. You're right. It was me. So what are you gonna do about it? You better tell me the truth right now. It wasn't me. I had a match that night 300 miles away. I got the gas receipts to prove it. But I could have hired somebody to do it. What? It was a joke! Man, relax! I really hope. You're a real facile. Real facile. I'll see if he laughed about it. I'll see if he laughed when he was Y pummeled down there. He didn't do it. You can't stop him for time and he's not gonna fight me. What? There was a joke! Dopo il nostro ultimo match Infatti non vedo l'ora di seguire gli sviluppi della vostra storia Penso hanno venduto da me di un altro video che è stato crashato Vogliono una resa dei conti Il sito è tornato online È una temporanea Ricordo che il match di stasera è un po' sconto a New World Basta non danneggiare la macchina della preside O possiamo dire a chi è di spettacolo all'aperto D'accordo Ok Si può distruggere la macchina della preside? Vediamo dov'è Vediamo se mi ci fanno andare E vediamo come possiamo andare avanti Ci vediamo nel match ragazzi Ok ragazzi Questo è il match Sta partendo finalmente il match Porta la salute di Cole sul giallo Quindi portalo sulla rampa d'ingresso e colpiscilo Ok Quindi intanto gli facciamo un po' di male così La salute di Cole è quella che vedete in basso sulla destra Quella che attualmente è sotto ovviamente il verde Quindi stiamo per raggiungere piano piano Stiamo per raggiungere piano piano la bave gialla Io quello che ogni volta vorrei fare Beh possiamo andarci anche da ora intanto Portalo sulla rampa d'ingresso Va bene Come dicevo l'avversario fa pochissime mosse Io però prima voglio vedere Nella regola del match C'è la squalifica Squalifica non ce n'è Quindi io posso fare così E prendere questo Penso che me la... Forse non mi fa attaccare Ma non mi fa attaccare Ok Eccola qua Quella dovrebbe essere la macchina del preste Questo è il mio però Porta goal verso la transella sud E poi colpiscilo Transella sud quindi Dall'altra parte Sì però fammi rialzare Ok Io voglio vedere se possiamo fare qualcosa Su questa macchina della preste No Non mi ci fa andare Da Certo ancora siamo all'inizio Ancora il mio personaggio non ha neanche Non ha neanche molta stamina Non ha neanche molta Molte controattacche che può andare a fare Quella era la fan che ci aiutava Che ho incontrato all'inizio carriera Il giocatore deve vincere con uno scheramento e una sottomissione Non mi fa attaccare con le armi Tiene il fuoco R2 prima di subire un attacco Per controattaccare Come tengo premuto? Ok Va bene Allora Vediamo come posso farti un po' di male Il giocatore deve vincere con uno scheramento e una sottomissione Quasi quasi già ci siamo Allora Vediamo un po' altre sediate E poi andiamo con La nostra solita Lo facciamo sempre Perchè la mia stamina non c'è Ok, se si c'è Va bene Aia Cavolo, ciao Ok Vediamo se mi fa affatto Non me l'ha affatto Me l'ha affatto fare Già c'ha la nostra segreta Con la nostra segreta Non ci può arrivare mai E che scusa Dai Ok Ho un controattacco Lo potete vedere In basso a sinistra Ok Vediamo se me l'ha affatto Ok Perfetto Questa l'abbiamo fatta Adesso Facciamo recuperare un po' la stamina E andiamo con la mossa finale Credo che A questo punto Ce la potremmo anche fare Ok Sì Sì Me l'ha affatto Perfetto Andiamo con lo schienamento Ok Abbiamo vinto anche questa Adesso vediamo Saltiamo sempre il replay Perché Non ci serve tanto Grazie It's gonna catch on You'll see Well My bad for getting fired up About the mask earlier We good? We're good Ok That's great guys But don't get too friendly Because you'll be facing Each other again soon In an even bigger rematch I just need time To build something Baron Since when have you built Anything ever? Well I'm not actually Building it myself But I am Designing it In the meantime I have some great opportunities For both of you To build off the success Of tonight's show Cole An up and coming promotion In Japan Wants you to go wrestle For them Ho 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 Even Japan Can't escape the energy Of black hole Cole Right Actually They explicitly said To not do that character They just want Cole Quinn And Buzz We are headed South of the border For a match Versus Mexico's Hottest luchador El Mago Es increíble What? I took a few years Of Spanish in high school What? Guess that'll be useful On our trip Hey big things are happening For us in BCW It's all coming together Now What do you say We bring it in For a big celebratory BCW handshake Ok Yeah Ok Quindi A noi ci portano in Messico A college Se lo portano In Giappone E vediamo Come possiamo andare avanti Ok Esamina il parabrezza Davvero Ok Lo esaminiamo nel prossimo episodio Ragazzi Io direi che per questo Può essere tutto Per questo appuntamento Può essere tutto Ci vediamo al prossimo Appuntamento Sempre sulla serie De la carriera Sempre su WW2K19